Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Cantiere per il giubileo a Piazza dei Cinquecento. Da ieri è iniziata una nuova fase dei lavori, modifiche per i capolini a bus, anche se in gran parte restano sulla piazza. Fanno in cessione i collegamenti 38 e 223 che ora fermano la Biale Enrico De Nicola e la 910 che ha spostato la fermata di Capolinea a Piazza Indipendenza. Via Giolitti è chiusa al traffico privato tra Via Rattazzi e Piazza dei Cinquecento. Nuova viabilità quindi sulle strade vicine, in particolare Via Gioberti, Piazza Manfredo Fanti, Piazza di Santa Maria Maggiore, Via Farini e Via Mendola. Grazie. Grazie.